Buongiorno, sono Giorgio Garbin, sono qui per presentarvi i nuovi forni della gamma Garbin, si chiama G-Pro, sono due anni di lavoro, di investimenti, abbiamo ottenuto degli ottimi risultati sia per quanto riguarda la parte tecnica e anche per quanto riguarda la parte estetica. Restiamo comunque sempre a parlare di forni ad uso gastronomia e pasticceria, le variazioni sono anche nella capacità delle teglie e anche nei nuovi modelli, rimaniamo sempre nella versione elettrica e nella versione a gas, la versione pasticceria rimane 4, 6, 10 e il nuovo 16 teglie. Il settore o la versione gastronomia viene trasformata in 5, 7, 12 e il 20. Il 16 pasticceria e il 20 gastronomia possono essere forniti con carrello o senza carrello, in 4 diversi modelli meccanici, analogici, digitali e con il nuovo touch. Tutto questo ci permette oggi di affermare che questi forni sono dei forni che cuociono in modo uniforme, di altissima gamma e che non hanno nulla da invidiare con tutti gli altri forni che sono presenti sul mercato. Logicamente la politica aziendale è sempre attenta a una questione del prezzo, quindi lo slogan che mi sento di coniugare è forni di alta gamma a prezzo competitivo. Concludo questa breve presentazione dandovi appuntamento a Milano alla nostra fiera, la fiera Ost, dove potrete vedere l'intera gamma di prodotti. Ribadisco, avremo tutti i nuovi forni, avremo la versione touch, venite perché vedrete anche il 16 e il 20, oltre anche una piccola linea denominata snackery, quindi tante novità.